Laura è arrivata, guardala, già sta giocando, già si sta ambientando e mangia anche giustamente. Guarda Laura, già come gioca con i giochini. Guarda, no, già si è adattata a me. Eccomi qua, sono arrivato a casa, c'è la mia mamma, c'è il mio papà, c'è la mia serendina pelosa. Sono veramente curioso, curioso. Sì, sì, guardate qua, cosa sta succedendo? Qualcuno prepara da mangiare. Oh, sono stato bellissimo, bravissimo. Sono venuto a casa, sono stato bravissimo con la mia mamma. E adesso esploro. Ciao mamma, Laura e papà Tommy, grazie. Sono veramente turbolento. Ma va bene così. Grazie mamma, Laura e papà Tommy, ciao. Ciao mamma, Laura e papà Tommy, grazie. tesoro sei bello amore amore bello tesoro tesoro amore amore bello sei bello amore sei bellissimo tesoro sei bello 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 tanto bello ciao ciao vieni con mamma vieni con mamma vieni con mamma sei già bellissimo bravo ciao tesoro ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti